E' stato discusso ieri pomeriggio il manuale della sicurezza per le riaperture nel settore del turismo e della cultura in Puglia. Una riunione già anticipata a Telesveva ieri direttamente dal presidente della regione Michele Emiliano che ha spiegato come oltre ai professori universitari che hanno elaborato la bozza di manuale ci sarebbe stata anche una task force con le stelle Michelin di Puglia oltre ai rappresentanti delle associazioni di categoria. Nel lungo incontro è stata illustrata la bozza di manuale che per la ristorazione indica alcune misure di sicurezza tra cui una distanza di 1,8 metri tra i tavoli ma anche percorsi pedonali a senso unico gestione delle code in entrata con apposita segnaletica orizzontale. Gli esperti consigliano anche di incentivare il pagamento mediante carta di credito l'attivazione di sistemi di prenotazione del tavolo tramite app l'utilizzo di menu digitali scaricabili magari sul proprio smartphone l'installazione di pannelli in plexiglass sui tavoli se i clienti non appartengono allo stesso nucleo familiare sistemi di sensori per il controllo della temperatura dei clienti e del personale utilizzo di barriere in plexiglass anche sul bancone invece negli alberghi, B&B e tutte le strutture ricettive il personale della reception dovrà contingentare gli accessi e sarà incaricato di effettuare uno screening all'ingresso che dovrà prevedere anche la rilevazione della temperatura corporea e la somministrazione di un questionario. Alla riunione è presente anche il professor Lopalco e l'assessore alla cultura e dal turismo Loredana Capone. La bozza di manuale che è stato presentato dalle università è un documento scientifico e occorre passare invece adesso ai protocolli operativi. Ci attendiamo che arrivino quelli dello Stato ma noi vogliamo dare il nostro contributo in maniera tale che siano tenute presenti le specificità regionali perché le regioni sono diverse tra loro pensate soltanto ai litorali il litorale della Puglia non è uguale a quello dell'Emilia e il distanziamento ha significato diverso quando i pezzi di spiaggia sono piccoli allora bisogna tenere conto di tutte quelle misure indispensabili per garantire la salute delle persone e dei lavoratori.